E' tempo d'estate, Anche quest'oggi, buongiorno, benvenuti a tutti, buon mercoledì 11 agosto, oggi una giornata particolare, bella in quanto festeggiamo la santa patrona anche della televisione, che è Santa Chiara d'Assisi, quindi un augurio e un abbraccio a tutti coloro che portano questo bellissimo nome. E allora, visto che la giornata è contrassegnata da questo aspetto, ecco così, francescano, partiamo subito con il santo, in questo caso la santa che la chiesa festeggia e ricorda oggi, Santa Chiara Vergine, nata ad Assisi nel 1193, morta ad Assisi l'11 agosto del 1253. Ha appena 12 anni, Chiara nasce dalla nobile famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i suoi vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio e dal gesto di Francesco, la giovane Chiara, sette anni dopo, fugge da casa per raggiungerlo alla porzuncola. Francesco le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano per condurla poi al monastero Benedettino di San Paolo, a Bassia Umbra, dove il padre tenta in vano di persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella chiesa di San Damiano, in cui fonda l'ordine femminile delle povere recluse, chiamata in seguito Clarisse, di cui è nominata Badessa. Erede dello spirito francescano, si distingue per il culto verso il Santissimo Sacramento, è patrona della televisione. E allora, a questo proposito, visto appunto che oggi celebriamo questa santa così importante per il mondo francescano, e allora vogliamo collegarci subito, oggi non con la chiesa di San Pio, ma con il monastero della resurrezione, delle Clarisse Cappuccine, sempre a San Giovanni Rotondo, dove c'è per noi Leonardo. Buongiorno Leonardo, è il caso di dire anche pace bene oggi, eh? Buongiorno Paola, pace bene a tutti i nostri amici telespettatori. C'è il suono di una cicala solamente a tenerci compagnia in questo luogo di silenzio, luogo di preghiera che le sorelle Clarisse Cappuccine hanno scelto per vivere la loro vita, la loro esperienza di vita religiosa al seguito del poverello di Assisi e di Chiara. È una giornata di festa, come abbiamo detto, auguri anche a noi, perché tu l'hai ricordato, Santa Chiara è patrona della televisione per volere di Papa Pio XII dal 1958. Ci piace raccontarvi quanto è accaduto qui ieri sera. I nostri amici telespettatori, coloro i quali ovviamente si sono collegati alle 21, hanno avuto la piacevole sorpresa non di partecipare al Santo Rosario, ma di commemorare liturgicamente il Beato Transito di Santa Chiara, appunto da questo luogo. Questo monastero che è stato voluto da San Pio da Pietrelcina e che da ormai più di 30 anni veglia, potremmo dire, in qualche modo sulla città di San Giovanni Rotondo. Noi abbiamo davanti a noi, la telecamera non credo possa inquadrarlo, ma ve lo racconto così come lo sto vedendo io, davanti a noi abbiamo la città appunto di San Giovanni Rotondo, davanti a me intravedo la chiesa di San Pio da Pietrelcina e ancora più in lontananza, verso sud-est, il golfo di Manfredonia. In questa giornata che è caldissima, ma qui noi respiriamo l'essenza della natura, come ha anche voluto farci vedere Antonio con l'inquadratura di inizio di questo collegamento. Credo abbiate già visto, noi qui purtroppo non abbiamo il ritorno video, ma abbiate già visto le immagini relative alla veglia di ieri sera, preseduta dal ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, Fra Maurizio Placentino, che in compagnia delle sorelle che animano la vita di questo monastero, ha voluto appunto ricordare il passaggio, la Pasqua, abbiamo ascoltato più volte questa parola ieri sera, di Chiara da questa terra al cielo. E la giornata di oggi, giornata di festa appunto, sarà scandita come sempre in questo luogo dalla preghiera. Alle ore 9, Fra Carlo Maria Laborde, che è guardiano del convento di San Pio da Pietrelcina, ha preseduto la celebrazione eucaristica e questa sera alle ore 18 sarà il nuovo vicario generale della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, Don Luca Santoro, a chiudere questa giornata di festa, dicevamo appunto, ma che è stata vissuta nella sobrietà davvero più estrema. Credo che possiamo ora ascoltare le parole del ministro provinciale che ha pronunciato ieri sera a proposito della figura di Santa Chiara, poi ritorniamo in studio e se vuoi Paola possiamo riprendere il collegamento. Chiara e Francesco, specchio di Cristo crocifisso, diventano specchio e modello per tanti uomini e donne, per ciascuno di noi. Chiara diventa specchio ed esempio per le sue sorelle, quel coraggio, quella forza, la porta ad essere la prima donna che scrive una regola per le religiose, per le donne che si consacrano al Signore. Fino ad allora le religiose si erano ispirate a regole scritte da uomini. Il suo ideale, il suo sogno, quell'immagine riflessa che ha visto nel volto di Cristo e nel volto di Francesco le danno una forza incredibile. Nella sua dolcezza c'è una forza che supera ogni ostacolo e lei diventa esempio, diventa immagine nella quale tante donne in tanti secoli si specchiano e trovano ispirazione. Chiara diventa specchio ed esempio per tutti noi perché ci ricorda oggi che l'unica vera vocazione dell'uomo è la relazione con Dio e stabilire questo contatto tra il cielo e la terra che è possibile perché Cristo lo ha reso possibile, perché Cristo si è fatto povero, si è fatto uomo come ciascuno di noi. Chiara ricorda a ciascuno di noi che ogni uomo è chiamato a essere casa di Dio, luogo dove Dio vuole abitare. In fondo Chiara e Francesco vogliono consegnarci un insegnamento importantissimo, straordinario, quello di cercare nella nostra fede semplicità e profondità. Abbiamo bisogno di vivere la nostra relazione con Dio in semplicità e profondità. Abbiamo bisogno di avere una storia con Dio, di curarla, di custodirla, di farla crescere. Queste le parole di Fra Maurizio Placentino durante la veglia di preghiera per commemorare il Beato Transito di Santa Chiara. Veglia che, come avete visto dalle immagini, si è svolta all'esterno del Monastero della Resurrezione, ieri sera alle 21, alla presenza di molti confratelli di Padre Pio, molti giovani della gioventù francescana. E allora, torniamo a collegarci con Leonardo. Sì Paola, allora, come dicevi tu, ieri sera, parecchi confratelli di Padre Pio, ricordiamo che la veglia di preghiera è stata voluta e animata dal servizio di pastorale giovanile vocazionale del santuario di Padre Pio, con Fra Nicola Monopoli, Fra Pasquale Cianci, Fra Michele Lombardi e tutti i loro collaboratori. Era presente anche la gioventù francescana e poi un po' più in penombra, ecco, rispetto alle inquadrature illuminate dai nostri fari, presente nella spianata, qui a pochi metri da noi, tanta gente che ha voluto ricordare il transito di Santa Chiara. Per chi volesse, insomma, per chi ha l'occasione di essere in zona a San Giovanni Rotondo, quest'oggi ricordo che alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica, come dicevo prima, presieduta dal nuovo vicario generale dell'Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Don Luca Santoro, che appunto chiuderà questa giornata. Non so se hai domande, Paola, altrimenti ti restituisco la linea. Tu sei appunto di spalle all'ingresso del monastero, in questo istante è passata, credo sia entrata o si è soffermata qualche istante davanti all'ingresso della chiesa, una signora, una pellegrina, ci sono tante le persone, anche San Giovanni stessi, che non solo approfittano del percorso che porta alle clarisse per fare un po' di attività fisica, ma sono anche tanti coloro che tra un percorso e un altro sostano in preghiera qualche istante all'interno del monastero della resurrezione, dove c'è, tu me lo puoi confermare, un grande silenzio che quindi permette un raccoglimento in preghiera. Sì, Paola, vorrei sottolineare che a dispetto della distanza di questo luogo dal centro abitato, le clarisse, come le chiamiamo qui a San Giovanni Rotondo, è davvero un luogo che è nel cuore di questa città, perché da sempre i sangiovanesi hanno manifestato dapprima sicuramente un po' di curiosità per queste donne che vivono in clausura, perché di questo stiamo parlando, e poi man mano negli anni c'è sempre stato più affetto nei confronti di queste donne, che appunto sono davvero un porto sicuro per quanto riguarda l'aspetto della preghiera. Tu hai sottolineato anche che questo è un luogo di svago, potremmo dire così, in effetti davvero tanta gente qui ogni giorno viene per respirare un po' di aria davvero pura, perché abbiamo qui a pochi metri da noi le cime più alte del Gargano, anche se Monte Calvo, che è il monte più alto del promontorio, dista qualche chilometro, qui davvero attraverso anche una sentieristica attrezzata davvero in maniera quasi impeccabile, è possibile esplorare la bellezza di questi luoghi. E salendo poi c'è anche un'area di sosta molto bella, da cui è possibile ammirare ancora meglio tutto il panorama che è davanti a noi, il tavoliere delle Puglie, ma anche parte del Gargano. Dunque, ripeto, come dicevo all'inizio, se qualcuno ha la possibilità di venirci oggi, ma non solo, anche nei prossimi giorni, visto che comunque in queste settimane il Gargano è il luogo di meta di turisti provenienti da ogni parte d'Italia, ma non solo, davvero vale una pena venire qui per ritemprare il corpo e lo spirito. E poi c'è anche un bel fresco che di questi tempi non guasta. Bene, grazie Leonardo. Ah, guarda, noi non ci spostiamo di qui. Noi non ci spostiamo di qui. Stavo appunto dicendo ti aspettiamo qui in redazione. Va bene. A tra poco. A tra pochissimo. Grazie ancora per questo collegamento. I luoghi, ecco, simbolo di San Giovanni Rotondo, legati al Santo di Pietrelcina e ai frati Cappuccini. E allora, come ogni giorno, anche oggi vogliamo darvi un consiglio di lettura. Un autore a noi molto caro, chi ha seguito e segue magari anche le repliche di Tra le righe in libreria sa che è uno dei miei preferiti. Lui si chiama Bruno Ferrero e a settembre, quindi tra un mese, sarà in libreria questo nuovo libro per la collana Piccole storie per l'anima intitolato La lista di Dio. Pensate al ventitresimo titolo di questa fortunata collana, grandi successi più volte ristampati e tradotti anche all'estero. Si tratta di brevi racconti, breve storie, essenziali, riflessioni e il caso di dire incompresse di saggezza spirituale proprio per la meditazione personale. Ma perché no anche da utilizzare per la catechesi, nell'animazione, la lettura in famiglia. Storie pensate per la meditazione personale ma anche di gruppo e perché no anche per il risveglio spirituale di giovani e adulti. Le riflessioni che si trovano poi alla fine di ogni racconto, piuttosto che proporre scontate morali da favola, allargano la visuale a nuovi micro aneddoti, apologhi di fede e di vita, aforismi e brevi preghiere. E allora sarà in libreria, edito dalla LDC per la collana Piccole storie per l'anima, la lista di Dio, firmato da Bruno Ferrero. Se non l'avete mai sentito tra i nostri consigli di lettura, questo è il ventitresimo titolo, ce ne sono altri ventidue prima e sono uno più bello dell'altro. Sono piccoli libri che davvero fanno bene all'anima. E allora, in questa giornata, prima di cedere la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria, vorrei ricordarvi che avete a disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare le vostre foto ricordo del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, quindi info-teleradiopadrepio.it, inviatecele. Magari se sono anche datate di qualche anno, non importa, foto di gruppo, foto di famiglia, perché no, anche foto singole. Ci piace condividerle con i nostri telespettatori. A questo proposito, apriamo, mi piace utilizzare questo termine, le teche di Padre Pio TV per ascoltare testimonianze, aneddoti, storie, di coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscere il santo di Pietrelcina. Continuiamo con un altro stralcio di un giornalista che ha incontrato Padre Pio ed è diventato anche direttore della rivista Casa Sollevo della Sofferenza. Lui è Giovanni Gigliozzi. Il giornale, lì come stava a me, in sacristia, gli erano a tenda. A un certo punto, dopo la risposta, il cardinale non ci sarà mai, eccetera, e io dissi, setta, c'è la signora Sanguinetti che pensa che io abbia tradito lei mettendomi dalla parte di Maccari. Lui mi abbracciò, ma figlio mio, figlio mio, e mi disse chiedimi qualsiasi cosa che io te la otterrò. e da me uscì una richiesta che non mi sarebbe mai venuta in mente. Forse me l'aveva suggerita inconsciamente lui. E la dissi questa cosa e lui cominciò a piangere, mi abbracciò stretto, stretto, e questo piace anche a me. Uno dei momenti più belli e più saordinari della mia vita. Un altro momento bellissimo fu l'inaugurazione della sua alia della sofferenza del 1956. Non so chi ha designato a me a fare l'indirizzo di apertura. E lo feci. Poi la sera, al tramonto, stavo guardando da una finestrina del convento, questa massa bianca che tu, andata dal sole, rimandava i raggi del sole, bellissima. Mi sentivano sciabattare, e allora di me c'era il padre Pio. E il padre Pio mi voltai e mi disse stamattina mi hai fatto vergognare. Io, padre, ma ho detto il minimo che si potesse dire, che dovevo dire qualche cosa. Poi indicandomi questa muore bianca della casa allievo, vedi, se il Signore mi dicesse dai fuoco a tutto questo per salvare un'anima, non esiterei. Direi, Signore, dovrei fuoco. 11.05, proprio in questo istante, se vi siete collegati solo ora su Padre Pio TV, canale 145 del Digitale Terrestre, questo è lo spazio che vi accompagna, la Santa Messa delle 11.30. Si chiama Tempo d'Estate, va in onda tutti i giorni, da lunedì al sabato. Il sabato lasciamo lo studio e ci spostiamo all'esterno, sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie o della Chiesa di San Pio da Pietrelcina. La ricerca di storie di pellegrini che hanno voglia di raccontarsi e di raccontarci la loro devozione al Santo. Detto questo, allora proseguiamo con le storie, gli aneddoti, i ricordi di chi ha avuto la grazia di conoscere il Santo Frate del Gargano. Questa volta un suo confratello. Lui è padre Eusebio Notte. Poi Padre Pio muore, le piaghe scompaiono. Non guariscono. Guarisce una ferita malata. Per Padre Pio non fu così. Le piaghe di Padre Pio, qui c'era un foro, mancava proprio la carne. Al petto una ferita aperta, io l'ho vista. Per cui non fu una guarigione. Il Signore dovette ricostruire quella carne che non c'era più. E ci sono gli documenti, qualche volta potreste mostrare per televisione le fotografie che ci sono, fotografie delle mani, dei piedi, del petto, quelle con le piaghe e quelle senza piaghe. la ricostruzione totale e completa della carne di Padre Pio, fresca, come quella di un bambino. Ecco come muore Padre Pio. Però prima di morire ci fa un regalo. Nell'ultima messa che celebrò, il 22 settembre, celebrava una messa veramente da vittima, era quasi morta a vedere quel film, proprio c'era da soffrire in un modo incredibile. Al termine della messa, Padre Pio si formò degli attimi, guardava intorno, come se volesse scrutare ad uno ad uno, a tutta la gente. A un certo punto esclamò, figli, figli miei, come se volesse dire, vi porto con me nel cuore e prego per voi in paradiso, in modo che un giorno possiate venire anche voi lassù dove sto io. Però Padre Pio sapeva benissimo che non è mica facile seguire le sue gomme e camminare in paradiso. Ecco perché ci siamo messi dietro di lui per chiedere il suo aiuto alla sua guida. E concludo ricordando un fatto. Una sera, venne a San Giovanni donde l'attore Carlo Campanini venne in ritardo al termine della funzione e si fermò in fondo alla chiesa. La gente che andava a Cantugina la Madonna andò a vederlo un dì. Il ritornello di questa Cantugina fa al cielo, al cielo, al cielo. Carlo Campanini era stanno eppure aveva una bella voce perché ha concluso la sua carriera cantando le operette. Però cantando al cielo, la C fece una stecca, stonò, si guardò intorno, la gente stonava più di lui e finì lì. Dopo venne in sacristia, ero presente io. Padre Pio faceva il suo ringraziamento alla funzione, poi si alzò, venisse gli uomini e ci incamminavamo per tornare nella sua cella. arrivato vicino a Carlo Campanini il padre Pio si fermò e disse e carlì, pure tu stai qui. Sì padre, sono venuto anch'io. Poi gli mise la mano in testa e disse e carlì, ma quando si tratta di andare al cielo tu fai un po' fatica. Questa frase l'avrebbe potuto dire a uno qualunque perché tutti facciamo fatica. Ma perché a Carlo Campanini? Poi lo chiamai e dice carlì, ma che voleva dire il padre Pio? ma che ne so io? A me è capitato che ho stonato in fondo. Come ha fatto questa sentina la mia voce? E poi prese lo spunto da questa stonatura di voce per dire che purtroppo ci sono anche le stonature nella vita ed è quello che bisogna raddrizzare. Beh, ho finito questo racconto, questa mia esperienza. Tutti quanti dovrebbero, come figli, come cristiani prima di tutte, come figli spirituali di padre Pio dovremmo darci da fare a cercare di seguire le sue urme. Perciò dicevo l'abbiamo scelto come guida e lui che ci deve ritirare lassù. Oltretutto poi c'è una sua promessa. Quando sarò in paradiso dirò Signore fammi aspettare sull'uscio del paradiso finché l'ultimo dei miei figli non sia entrato. Beh, tutta sta fretta di andare lassù penso che niente e voi ce l'abbiamo ma arriverà il momento in cui dobbiamo andare. Dobbiamo essere sereni che c'è qualcuno che ci aspetta. Ci farà gli onori di casa. Ci prende, ci presenta a Gesù e dici Gesù questi sono i figli miei che tu mi hai affidato. Te li riconsegno. Accoglici tutti in paradiso. Speriamo che questo auguro si realizzi per tutti quanti. Grazie, pace e bene. E con queste belle parole si conclude la lunghissima intervista che vi abbiamo riproposto in queste settimane realizzata diversi anni fa a 2005 da Nicola Morcavallo appunto che abbiamo vi abbiamo riproposto in piccoli pezzetti in queste in questi giorni in queste settimane di tempo d'estate. Oggi sono quasi due mesi che andiamo in onda in questo spazio e speriamo davvero che la nostra compagnia in qualche modo vi risollevi e vi accompagni con un po' di leggerezza in queste giornate per molti anche difficili perché estate non significa sempre vacanze e ferie ma per molti significa anche solitudine. E allora proseguiamo con le nostre teghe con gli archivi perché è bello rivedere quello che a volte abbiamo anche noi dimenticato di avere schedato e lui è il professor Francesco Lotti che fisicamente non è più su questa terra ma sicuramente insieme a padre Eusebio e a padre Pio in Paradiso anche lui ha tante storie e tanti ricordi legati al santo. Ero andato a confessarmi come facevo regolarmente padre Pio voleva che la confessione venisse al massimo ogni 15 giorni. quando uno andava più tardi diceva ma che sei stata al bosco per dire sei andato a lavorare in montagna che non hai potuto venire e quindi c'era sempre parecchia gente nella sagrestia dove confessava gli uomini e si metteva in fila le due del pomeriggio per essere per avere la possibilità di confessarsi da lui e un giorno che io ero in attesa di confessarmi si avvicina da me un personaggio di qui era molto agitato e mi disse senta lei mi conosce? Sì sì certo la conosco dice sa io vorrei che lei mi facesse una cortesia se posso mi dica lei dovrebbe dire a padre Pio se posso andare a confessarmi da lui che non mi tratti male ma non capisco non è che padre Pio tratta male no sa mi è successo questo io purtroppo ho avuto una relazione extra coniugale con una ragazza e adesso pare che questo aspetti un bambino e io quindi nella mia posizione se scoppia questo scandalo allora non è come oggi nei quali queste cose non fanno più molta impressione allora erano cose certamente molto rilevanti e dice io voglio andare a confessarmi da lui ma non ho il coraggio se mi fa una parte davanti a tutti lei capisce la mia posizione io dico ma non lo so vedrò se riesco a dire qualcosa a padre Pio vediamo è finita la confessione dice padre lo vede è come non lo vedo e quello sa quello così 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 è successo e padre Pio mi guardò e disse ma tu ti sei scandalizzato beh un pochino sì ho detto la persona frequenta il convento da tanti anni mi sta sempre vicino a lei ho detto un pochino sì mi sono scandalizzato e lui disse vedi che se il signore leva per un solo momento la sua mano dalla testa mia e dalla tua noi faremmo molto peggio digli che venga qua e che non lo tratterò male davanti a tutti e così fu naturalmente l'amabilità è impersonata appunto fatta carne nella vita e nell'apostolato nel sacerdozio del santo di Pietrelcina abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme prima di una pausa un po' più lunga e prima di continuare con un altro contributo che è dedicato al nostro caro padre Marciano vorrei ricordarvi l'avete visto magari anche prima nei promo l'appuntamento per venerdì 13 agosto la sua Monteleone di Puglia celebrerà omaggerà padre Marciano con una giornata appunto dedicata a lui alle ore 18 ci sarà la Santa Messa e noi la trasmetteremo in diretta quindi appuntatevi che venerdì 13 agosto la Santa Messa delle 18 sarà in diretta dalla chiesa di San Giovanni Battista da Monteleone in Puglia paese che ha dato i Natali al caro padre Marciano Morra che vogliamo ascoltare in questo stralcio di uno dei nostri infiniti colloqui era novembre del 2010 allora sì io volevo chiedere un po' risposto prima con la domanda che ha fatto Enzo rispondendo tra il rapporto tra padre Pio e la Madonna diciamo così si può dire anche quasi umano no? sì tra mamma e figlio io mi viene in mente diciamo ecco il rapporto che oggi si ha la mamma con i propri figli la Madonna è stata definita la donna del silenzio questa cosa mi ha sempre affascinato ecco se lei ci potrebbe dire qualcosa in più al riguardo di questo cioè il rapporto della Madonna con con la umanità e la mamma in quanto tale mamma di oggi con i propri figli che connessione ci può essere come donna questa è una domanda molto impegnativa che meriterebbe di essere sviluppata prenderne conto che ne parleremo quando parliamo sulla famiglia il rapporto mamma figlio in breve in breve com'è il comportamento di Maria con padre Pio e con ciascune di noi ad eccezione di quello di 4-5 volume dell'epistolare di padre Pio sono appena poche righe che padre Pio fa questa esperienza diciamo di sofferenza della Madonna di rimprovero della Madonna ma tutto il resto è tutto positivo quindi la Madonna rispetta a ciascune di noi è mamma e la mamma rimane tale anche se qualche volta alza la voce o guarda diciamo storto guarda male rimane perché perché è mamma e vuole che il figlio risponda bene nella vita pratica mamma figli non è il rimprovero che aiuta a crescere i propri figli ma è la stima e l'amore oggi molti ragazzi non si sentono amati da papà e mamma che hanno le loro ragioni perché l'operaio che parte alle 6 del mattino per ritornare alle 6 di sera dopo una giornata che è stata a lavorare io non so come può stassare lì a giocare a carta a quello quell'altro lì col proprio figlio perché sta pieno sta stanco sta preoccupato però questo è un danno allora coinvolgere i figli nelle responsabilità dei genitori allora i figli crescono e i ragazzi devono essere abituati all'autostima si devono stimare stimare principalmente persone ragazzi bravi questo è importante e quindi anche nel campo religioso devono essere educate a dire io sono cristiano e vivo come tale se lo dicono da piccoli e quindi sono responsabilizzati a questa vita dinamica religiosa lo faranno anche da grandi però questa è una domanda che vuole essere svilupperemo questo argomento abbiamo una domanda proprio al volo passiamo il microfono e poi chiudiamo hanno detto che tenevano fretta meno male meno male abbiamo tagliato l'altra domanda perché altrimenti saremmo andati oltre però ci piaceva farvi vedere soprattutto ascoltare l'ultima battuta di padre Marciano e meno male che avevano fretta riferendosi a questo gruppo che se non sbaglio proveniva dalla Calabria appunto era il 2010 in quel periodo abbiamo avuto modo di ospitare diversi gruppi di preghiera che insomma si divertivano anche a stare qui nei nostri studi a porre le loro domande a padre Marciano che rispondeva sempre con grande professionalità e a volte però ecco bacchettava anche i suoi i suoi gruppi di preghiera insomma è stato segretario generale per tanti anni e allora sono quasi le 11 e 20 è arrivato il momento di restituire la linea alla regia centrale quella in via denunzio facciamo una pausa pubblicitaria un po' più lunga e poi torneremo di nuovo insieme per accompagnarvi alla celebrazione eucaristica delle 11 e 30 in diretta dalla chiesa di San Pio di San Pio